Buongiorno amici belli, dedicato a voi un trist composto da due sorelle spagnoli melanici che si contengono lo stesso partner. Oggi dopo 13 giorni la schiusa di entrambi i niti, questo è per farvi capire quanto sono buoni i miei spagnoli melanici. Spostati, due già sono nati, rimane l'ultimo uovo, l'altro è finto, lo tengo per appoggio ai piccoli. Dopo 13 giorni come un orologio, altri due, rimanendo l'ultimo uovo, sempre con l'uovo finto come appoggio. Ora capite perché amo tanto i miei spagnoli melanici. Dopo anni di selezione sono riuscito pure a questo. Il prossimo anno sicuramente li farò tutti così, un maschio per due femmine. Un bravo maschio novello che è bravo a dare da mangiare a tutte e due, li impecca contemporaneamente, quindi penso che sarà bravo anche a impeccare i loro piccoli e i suoi figli particolarmente. Vi auguro una buona giornata, ciao alla prossima.